un matrimonio di due persone due medici che quindi sono in prima linea per salvare le vite per insomma farci stare meglio era un segnale da una parte per la loro famiglia per essere più tranquilli ma anche per la società per guardare con speranza il futuro che ci aspetta quindi attendiamo di uscire da questo brutto periodo ma facciamolo anche con nel cuore la voglia di una nuova famiglia e con gli occhi insomma di un futuro radioso per la nostra città sono veramente contento di poter essere insieme a voi in questo momento anche noi siamo contenti verremo a trovare una presenza mascherina e quindi è un regalo che volevamo fare come come un municipio come comune di parma a voi e vedrete a casa e vedrete che è un libro meraviglioso curato da alberto indolini e tutti i migliori fotografi di parma e qui neanche presente hanno accanto come in questo giorno per voi mi dimenticate che mi trovo qui anche un individuo e un cittadino direi che allora iniziamo con la parma della cerimonia il 12 agosto del 1985 con i genitori cittadinanza italiano gli articoli 143 144 147 del codice giudizio che regolano i diritti i doveri dei coniugi come sempre l'articolo della vita familiare e fissano alla residenza della famiglia secondo le esigenze di entrare e quelle premediti della famiglia del matrimonio il matrimonio impone a danno i tuoi coniugi la voce mantenere, istruire, educare e assistere nuovamente i figli nel rispetto delle loro capacità e le relazioni alla presenza dei testimoni al testimone 1 lei non mi stiava che diciamo sui giorni grazie applausi 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 Grazie. 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 Grazie.